Guglielmo di Ockham, il filosofo inglese che ha cambiato il Medioevo. Guglielmo di Ockham, nato nel villaggio di Ockham, nel Surrey, intorno al 1288, è stato uno dei più importanti filosofi e teologi del Medioevo. Le sue idee, che hanno influenzato profondamente il pensiero successivo, hanno contribuito a segnare la fine del Medioevo e l'inizio dell'età moderna. Ockham entrò nell'ordine francescano da giovane e studiò teologia e filosofia a Oxford. Le sue idee, che erano in contrasto con quelle dei teologi scolastici più tradizionali, lo portarono presto a scontrarsi con la Chiesa. Nel 1324 fu convocato ad Avignone dal Papa Giovanni XXII per rispondere, dell'accusa di eresia. Ockham rifiutò di presentarsi e si rifugiò in Italia, protetto dall'imperatore Ludovico il Bavaro. Durante il suo esilio, Ockham scrisse alcune delle sue opere più importanti, tra cui La Somma Logiche, un trattato di logica che ha avuto un'influenza profonda sul pensiero filosofico occidentale. In questo trattato, Ockham espone il suo principio di parsimonia, che afferma che le spiegazioni più semplici sono da preferire a quelle più complicate. Questo principio, noto anche come rasoio di Ockham, è diventato uno dei principi fondamentali della scienza e del pensiero logico. Le idee di Ockham hanno avuto un impatto significativo sul pensiero politico. Egli sosteneva che il potere temporale e il potere spirituale dovevano essere separati, e che il popolo aveva il diritto di ribellarsi contro un governo tirannico. Queste idee hanno contribuito a diffondere le idee del Rinascimento e della Riforma Protestante. Ockham morì a Monaco di Baviera nel 1347. Le sue idee hanno continuato a influenzare il pensiero filosofico e politico per secoli, e continuano a essere discusse e studiate ancora oggi. Il pensiero filosofico di Ockham Il pensiero filosofico di Ockham si basa su una serie di principi fondamentali, tra cui, il principio di parsimonia, le spiegazioni più semplici sono da preferire a quelle più complicate. L-nominalismo, le universali non esistono in sé, ma sono semplicemente nomi che ci vengono dati per le cose che sono simili tra loro. Il volontarismo, la volontà di Dio è la causa prima di tutto ciò che esiste. Il principio di parsimonia è il principio più importante del pensiero di Ockham. Esso afferma che, quando si deve scegliere tra due spiegazioni di un fenomeno, è da preferire quella che richiede un numero minore di entità e di ipotesi. Questo principio ha avuto un'influenza profonda sul pensiero filosofico e scientifico, e ha contribuito a promuovere l'uso del metodo scientifico. Il nominalismo è la teoria secondo cui gli universali, cioè le categorie generali che ci vengono date per le cose che sono simili tra loro, non esistono in sé, ma sono semplicemente nomi che ci vengono dati per queste cose. Questa teoria si contrappone al realismo, secondo cui gli universali esistono in sé, indipendentemente dalle cose concrete che rappresentano il volontarismo è la teoria secondo cui la volontà di Dio è la causa prima di tutto ciò che esiste. Questa teoria si contrappone al determinismo, secondo cui tutto ciò che accade è determinato da cause naturali. L'influenza di Occam. Le idee di Occam hanno avuto un impatto significativo sul pensiero filosofico, politico e scientifico. Il principio di parsimonia è diventato uno dei principi fondamentali della scienza e del pensiero logico. Le idee di Occam sulla separazione tra potere temporale e potere spirituale hanno contribuito a diffondere le idee del rinascimento e della riforma protestante. Tra i filosofi che sono stati influenzati da Occam si possono ricordare René Descartes, il padre della filosofia moderna. John Locke, il padre del liberalismo. David Hume, il padre dello scetticismo. Le idee di Occam continuano a essere discusse e studiate ancora oggi. Esse sono un importante punto di riferimento per il pensiero filosofico e scientifico contemporaneo.